Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Il mondo dentro il lago, dell'episodio numero 2 Il delfino rosa Buon ascolto! Arrivato al fiume delle Amazzoni, Spike ha visto il delfino di fiume, amazzonico, che, bisognoso d'aiuto, disse a Spike Ciao, il mio nome è Roseto. Io desidererei avere un amico umano. Purtroppo, però, al villaggio, sono convinti che io sono una creatura malvagia, capace di portare sfortuna. Spike rispose, ascoltando Roseto. No, questo è impossibile. Nessun animale porta sfortuna. Il villaggio capirà la verità. Così potrei avere un amico. Il delfino ringraziò Spike per il suo aiuto e insieme andarono verso il villaggio, seguendo il fiume, dove Roseto poteva trovare un amico. Arrivati, Teo, un bambino, ammirato dal fascino del delfino, nuotò verso la creatura per accaressarla. Ma i amici di Teo, spaventati, dissero al loro amico «Fermati, Teo, non guardare negli occhi con la mostruosa creatura, altrimenti sarai vittima di gravi incubi per sempre. Non accaressarla potrebbe afferrarti e portarti in un misterioso regno sottomarino, il regno di Encante. Forza, scappa da lì, presto!» Teo, credendo ai suoi amici, rimase impallidito nel credere che un bellissimo delfino di fiume avrebbe potuto fargli male. Perciò, terrorizzato, fuggì con i suoi amici, allontanandosi dal fiume. «Roseto, addolorato, disse a Spike, hai visto? Tutti i giorni è così. Io mi spingo per fare amicissia, ma loro hanno paura di me. Che cosa dovrei fare?» Spike, assistendo alla drammatica situazione, capì che la faccenda era più complicata del previsto. Ma nonostante ciò, era sicuro che Roseto avrebbe fatto amicissia con Teo. Questo è il delfino di fiume, Roseto e la salamandra, Spike. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!